Era arrivata la mia prima partita, era stata con Legnano, dove era arrivato comunque a gennaio, mi allenavo da una settimana, due settimane, quando poi dopo ci fu l'esonero momentaneo di Sabatini e niente. Hai detto in quel momento, c'è stata l'incursione agli ultimi, ma chi me l'ha fatto fare? No, chi me l'ha fatto fare è stato un po' l'impatto, come dico io, ero passato sostanzialmente da una piazza dove Sassuolo, dove con tutto il rispetto comunque, dai, non è come Padova che è tutt'altra storia, tutt'altra piazza, mi sono un po' mi ha reso conto, cioè, una piazza giustamente che pretendeva tanto, come era giusto che sia, capito, come Padova, di dove era arrivato, capito? Però ero sostanzialmente comunque contento, e questo secondo me è il calcio vero, sostanzialmente.